Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Roblox Ok ragazzi e siamo in questo nuovo episodio di Roblox Ragazzi stavo controllando il microfono va tutto bene? Perfetto Tutto tranquillo Ragazzi io metto nella finestra così il computer No ma sai che c'è? Sai che c'è ragazzi? Siete che cosa c'è? Attivato Lo prende? Comunque ragazzi ciao a tutti e benvenuti in questo L'ho chiuso? Ok e benvenuti in questo nuovo episodio di Roblox di Little World E la rana spawna tra quattro minuti Il pranzo ho visto? Ho visto il pranzo Cos'è? Miam Miam Questo lo posso uccidere? Aspetta No ragazzi sono curioso Comunque oggi volevo andare a fare un evento Vieni Come pensi di andare? Come pensi di andare? Perché non mi viene Perché non mi viene Perché non mi viene Sì Perché non mi viene Sì Perché Perché Spiega Sì 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 Miam Preso Dai Dai vai Lotta 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 Ok lo sto tolto da vita Dai ragazzi non ci credo che lo sto killando Ma sta scappando da me No mi hai fatto Mi hai fatto pagare Questo vuole rigenerare la vita Mort Mori L'ho ucciso ragazzi L'ho ucciso Ok Sono a livello 49 A livello 50 divento qualcos'altro mi sa Vediamo No Però a livello 51 divento qualcos'altro Una specie di Oh Oh Raga C'è un coso Come si chiama? Un ragno elettrico Allora Io vorremmo andare invece a sconfiggere C'è a fare un evento Allora aspetta Appena termina l'evento Vorrei fare un altro evento E poi Anzi no Ragazzi Ho mentito Non voglio fare un evento Voglio sconfiggere No Allora Ragazzi fatemi pensare cosa voglio fare in questo episodio Nel frattempo Andiamo a conquistare una base Se la trovo Credo che qui ci Vicino ci Cos'è? Non è una base Allora credo che qui vicino ci Ci sia Perché di solito la base Nei bordi Credo che qui vicino ci sia una base Dovrebbe esserci No qua c'è lo spawn Allora io vado in un'altra modalità Dove 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 si trova? Dove è il cambio di modalità? Eccolo Vado in una modalità Sand 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 Ma È uguale Ah no Qui c'è lo spider Il frog Che sarebbe la rama Sapete Sapete cosa voglio fare ragazzi? Anche Se Ragno Tra quanto Tra quanto spawn Ah? Tra un minuto Qualcuno viene no? Qualcuno deve venire Spero che qualcuno viene Ragazzi Non voglio sconfiggerlo da solo Anzi Wow Siamo sotto Spawn Nel frattempo voglio Voglio diciamo Farvi vedere Aspetta Io quando Quando ho sconfitto per la Ero diventato così No No Così Equip Equip Io ero così Ragazzi Ciao a tutti ragazzi Mi avete portato alle formiche Mi ama Mi ama Mi ama Ragazzi Mi ama Mi ama Mi ama Allora Dove possiamo andare ragazzi? Intanto cambiamo No Che cavocchio Io voglio cambiare Intanto cambiamo E Super Insetto Insetto attuale Diciamo Insetto attuale Allora Cosa vogliamo fare Oggi ragazzi? Vogliamo Sconfiggere questa Spero che qualcuno Mi viene ad aiutare No? Spero di sì Ok Darkness Oh mamma mia È bellissima l'animazione Ragazzi è bellissima l'animazione Quando Quando tipo viene È bellissima l'animazione Ha 8000 di vita Prendi questo Prendi questo Prendi questo No 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 Ok non mi hai preso Non mi hai preso Non mi hai preso Lo sto prendendo Lo sto prendendo Lo sto prendendo No 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 Mi è venuto qualcun altro Ragazzi È venuto qualcun altro Ad aiutarmi Calma 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 Io mi devo allontanare Perché lui Lui Ci mette Due tre colpi Per prima di ucciderlo A me Ah no Anche a me Sono forte anch'io Mi hai preso? No Non credo che mi abbia preso Aiuto Vieni Vieni qua Piccolo ragno Mam Mam Devo trovare Aspetta Faccio la miniatura Guarda Stamp Ecco l'ho stampato Mam 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 No Ho un mila di vite ragazzi No 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 Sta morendo? Sì è 6.000 di vite Prima era 8 8.100 No Ok scappa scappa Ragazzi se lo sto sconfiggendo No Questa volta mi hai preso Eh infatti No non mi hai preso Vorrei sapere uccidere quello Se lui non si muove Perché lo sto andando Devo ucciderlo È rinato Guarda È morto E mori mori No No Mi ero incastrato Ragazzi mi ero incastrato Non lo dico ma Mi ero incastrato Ragazzi lo sto uccidendo Sono andato in questo silenzio Ma sono concentrato Ad uccidere questa maledetta ragno No Ok ce l'ho fatta Quello là è morto Particamente lo sto uccidendo Solo io ragazzi Farò un sacco di esperienza Di ex Ok questa volta Non mi ha preso Ok Lo sto battendo Li faccio 24 di danno ragazzi Cioè gli altri Io li faccio tipo Quanto? 200 200 di danno Ma a lui li faccio tipo 24 Mi ha detto È vero perché lui è grande Questa volta mi ha preso No non mi ha preso Però l'altro L'altro si sta lasciando prendere Praticamente Ma non lo sta mordendo? Vediamo No lo sta mordendo Lo sta mordendo Allora quando c'è scritto Ex Vicino Alla vita di Allora nella vita Allora ve lo faccio vedere Questi qui Guardate il puntatore Guardate il puntatore del mouse Questo qui È le Le Diciamo Il La L'esperienza che Perché ogni morso vi aumenta l'esperienza Guardate Guardate sempre Guardate che vi aumenta Perché io lo sto mordendo Se voi non lo mordete Non avete mai l'esperienza Non so se mi sono spiegato Dai che è morto Dai che è morto No Prendi questo Prendi questo Prendi questo Prendi questo Ragazzi lo sto uccidendo solo io Non ci credo No però mi è preso questa volta Ragazzi Mi è preso Non mi è preso Non mi è preso Ragazzi non riesce a prendermi Cioè mi fa danno Sì Ma non Non è che Mi uccide Sicuramente Ok Dai Lo quasi fa tutto Ragazzi Ragazzi è quasi morto Quanta vita Ah Dai che sei morto Sì Oh mio dio Che cavolo sono diventato Sono salito di due livelli No ragazzi Sono una mosca Scheletro Ah Che Siamo a dieci minuti Uh Ora sono molto più forte Miamma Vediamo Allora Allora cosa facciamo oggi Cosa facciamo oggi Vediamo Ignoro Lo facciamo nel prossimo episodio Devo Devo killare qualcuno ragazzi Oppure conquistare una base Le devo vendicare Perché prima ragazzi Mi hanno conquistato la base Nello scorso episodio Mentre stavo chiudendo Mi hanno conquistato la base E però non l'ho più ritrovata E quindi mi hanno Dai Vieni 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 Ragazzi ora Lo uccido Vieni qua Da paparino Piccolo Coleottero No È andato a mangiare la cesta È andato a mangiare la cesta Dannazione ragazzi Comunque credo che A livello 52 Dovrei cambiare aspetto Sì A livello 52 Divento totalmente Un altro insetto Ehm Spion Miam Ragazzi ho visto qualcuno Ho visto qualcuno Ehm Non ho visto il Uh eccolo Eccolo E cos'è Non è neanche un ragno Non ha otto zampe Che cavolo è tipo Vieni Vieni qua Vieni qui No mio Eh Pensavo di poterlo uccidere Omanue Di poterlo ucciderlo Farcore Mamma mia Vieni qua Dove sei andato Se n'è andato Quello lì Se n'è andato Comunque Il ragno Il ragno era molto forte Cioè Non so quanto ci ho messo Ci ho messo Ci ho messo tanto Perché eravamo Ero Ero Eravamo pochi Vieni qua Non andare lì Non andare lì Non andare lì Ragazzi è una vedama nera Questa è una vedama nera Allora C'è bella faccia Bella faccia Ci sei? Sei qui? Esisti? No non c'è Quello più forte Comunque è lui Ragazzi È il livello 88 Io comunque Me ne vado ragazzi Me ne vado ragazzi Vai sali 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 No che cavolo è? Allora Bisogna conquistare le basi Bisogna conquistare le basi Cavolo Cavolo Non riesco più a trovare le basi Ragazzi Cavolo Eccola Non ci credo Le ultime Oh che cavolo Le ultime parole famose In senso positivo Questa volta però In senso positivo Ah C'è quello È quello di prima Perché mi tolgo Mille? Perché sicuramente Sono salito di livello E perché ho anche il danno doppio Ecco perché Ok la bandiera Dai che me ne devo andare Ora si vendica lui Lui sicuramente tornerà Vediamo Non torna? Sta tornando Sta tornando? Non sembra Non sembra 13 Comunque Comunque Mi sa che fra poco Comunque ragazzi Chiudiamo Perché Che cavolo Sì fra poco Tipo Fra 5 minuti Chiudiamo Mi ha dato 300 di esperienza La rana La rana Uh 8 secondi No però non la voglio fare La rana Ah si no La voglio fare Voglio salire di livello Col cavolo Io la voglio fare Guarda qua Fuori il cerchio Ok non mi ha preso Questa volta Ok ragazzi Dopo questa Appena sconfittiamo La rana Termino l'episodio Miammi Miammi Mangiamoci Tutta la pancia Della rana No Questa volta Mi prende Questa volta Mi prende Mi hai preso Prendi questo Piccolo e gigante Raon No Mi ha preso Oh cavolo C'è qualcun altro ora Sono morto Sono morto Sono morto Mi ha ucciso Ok però Ci sono sempre Ci sono sempre Ci sono sempre ragazzi Ci sono sempre Cavolo mi ha preso Mi ha preso Mi ha preso Oh ora ho Oh Ok Vai prende questo Comunque credo che la rana Dà meno esperienza Però eh La rana Non dà così tanta esperienza Cavolo Come ho fatto a prendermi Cavolo Ignoralo Ora Ora Cavolo devo scappare ragazzi Ecco lo sapevo Guardi questo Ragazzi questo No Sono morto Ecco No mi stanno pure Conquistando la base Però Dannazione Quella mi serviva Mamma la Vediamo Di sangue No Maledette Nugole Veramente Si vede che però Dalla finestra Non si vede Magari Mi prende Ecco mi ha preso Ora Sicuramente Io mi seguo E' deciso E' deciso E' deciso E' deciso Ok no Mi ame Mi ame Mi ame No è deciso Ho quattro No Ragazzi ho quattro di vita Ragazzi ho quattro di vita Ragazzi ho quattro di vita Ho quattro di vita Ho quattro Sì Mi ame Ragazzi sono diventato Sono diventato Qualcosa Cavolo sono diventato Mi ame Ragazzi questo episodio Finisce qui Sono diventato Una falena Un Un Cosa Come si chiama Non so neanche Come si chiama questo insetto Ragazzi Questo episodio Finisce qui Mi ame Ragazzi Mi ame Mi ame Mi ame Mi ame Ragazzi questo episodio Finisce qui Se vi piacerà il video Mettete un bel piacere in su Da me è tutto Devo chiudere Perché ora devo vedere La luna del sangue Se vi piacere il video Mettete un bel piacere in su Utilizzate il nostro codice creatore Falcor Game E io saluto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Con la nostra nuova trasformazione Ciao